Gioca con uno della tua taglia, Rhyno! Nessuno è della mia taglia. Poco. Allora, magari... ne parliamo? Rhyno, spiegami quest'alleanza. Non eri un solitario? Conta solo il fine, Pog. Il fine giustifica i mezzi. E quale fine giustifica questi mezzi? La libertà. Quella vera. Basta costume. Basta con... Ok, Rhyno. Ora basta... Mai fidarsi di un bambinone di otto tonnellate. Ora ci penso io. Scorpi, ti adoro, ma intromettersi è da maleducati. Come avresti fatto senza di me? L'avresti supplicato di smettere? Sì, Gargan. Era esattamente quello il mio piano. Oh, sembrate marito e moglie, voi due. Oh, sembrate marito e moglie, voi due. Ha già un nome? I terribili sei? Quella sporca mezza dozzina? Che ne dici, Di? In sé, ti hanno ucciso Spider-Man per farne un tappeto. Gargan, ti prego, è un nome ridicolo. Gargan, controllati! Davvero non ti ero aspettati. Ti sfascono i tuoi lamenti. Libermi, forza! Prendilo, idiota! Prendilo! Vieni ad aiutarmi, bravo! Patetico, Gargan! Schiaccerò io quell'insetto! No! Potremmo anche chiuderla qui, sai. Non lo direi a nessuno. E lasciare il tuo cranio intanto? Non è divertimento! Forza, Vogue! Lascia che ti insegni a mettiare muro. La mia mascella ha già imparato la lezione. Grazie. Rino è stordito. Con la pioggia di pugni. Non avevi seguito un corso di poesia a raft? Come terapia intendo. Hai idea di come reagirebbe Octavius se scoprisse che tu hai fallito? Io ho fallito? Sì, tu, scimmione! La convivenza forzata potrebbe aiutarvi ad andare d'accordo. Ok, Yuri, ne abbiamo presi quattro. Restano solo Octavius e Lee. Qualcosa mi dice che non saranno prede facili. Ma loro sono solo una parte del problema. I casi di respiro del diavolo sono in crescita e alla Oscorp non si sbilanciano sull'antidoto. Temo vogliano lucrarci. Non mi aspettavo altro dal nostro caro sindaco. Penso io al respiro del diavolo o sul caso una persona fidata. Ehi, Pete! Ho setacciato le banche dati cittadine, statali e federali. Se il laboratorio del respiro del diavolo, non è registrato. Non resta che cercare nei documenti personali di Norman. Ho già controllato il computer nel suo ufficio. Stai pensando all'attico. L'edificio pullula di agenti della SEMP. Se mi scoprissero, potrebbe andarci di mezzo qualcuno dei residenti. È vero, ma io potrei riuscire a passare inosservata. Entro, scopro l'ubicazione del laboratorio e tolgo il disturbo in caso di problemi di contatto. D'accordo. È rischioso, ma non abbiamo scelta. Aspetta che siano i paraggi prima di agire. Ricciuto. Bene, MJ. Sono un paio di isolati. Chiama in caso di guai. Grazie, Pete. Augurami buona fortuna. Ok. L'attico di Norman è all'ultimo piano, ma l'ascensore è bloccato. Devo entrare nella sala della sorveglianza. In Sindaco Osborne vive qui. Non lo vedo mai. Sì, l'ascensore arriva fino al suo anno. La sala di sorveglianza. Ma se entro, la guardia mi vedrà. I residenti sembrano alterati. Forse potrei fomentarli per creare un diversivo. Se restiamo qui sotto, finiremo per contrarre quella malattia. Consiglio di stare alla larga da receptionist. Ha una brutta tosse. Cosa? Non possono impedirci di tornare su. Non potete trattarci come bestie! Se finirò per ammalarmi, vi farò causa! Ho lasciato l'inalatore di sopra. Sono tenuti a lasciarti salire in caso d'emergenza. Un problema di salute mi sembra sufficiente. Davvero? Beh, allora andrò a parlare con la sicurezza. Ehi! Lasciateci salire! Io ho un'emergenza medica! Oddio! Non respiro! Devo tornare di sopra! Perché Osborne non è con noi? Questi problemi non lo riguardano? Il sindaco e i suoi amici fanno eccezione. Hanno appena lasciato salire uno dei suoi finanziatori. Ah, lo sapevo. È un'ingiustizia bella e buona. Forza! Dovrebbe funzionare. Jerry, vieni qui! Abbiamo un problema! Fateci passare! Non contiamo meno di Osborne! Se è aperta, non devo farmi scoprire. Per favore, mantenete la calma. La Sable International ha quasi concluso il controllo. Ci era stato detto anche un'ora fa! Comprendo. Ma ricordate, la Sable ha a cuore la vostra sicurezza. Eila! Ho un paio di agenti della Sable da farti conoscere. Qui ci pensiamo noi. Ok, ok, vado. Bel giocattolino. Devo farlo girare. Che bravo. Beh, alla Sable saranno assicurati, no? Ecco la sala della sorveglianza. Ma l'agente della Sable blocca il terminale. Mary Jane Watson, la super spia. Ora sblocchiamo l'ascensore. Andata. Norman sta uscendo e l'ascensore è sbloccato. È il momento di salire. L'ascensore è per l'attico. Ci sono. Norman e la Sable. Puntualissimi. Trova il tecnico e licenzialo. Stupido e inutile pulsante. Stupido e inutile pulsante.